Violenta lite a Giffoni-Vallepiana, arrestato 43enne con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto di cronaca si è consumato ieri sera al culmine di una lite tra due persone. Pare, da una prima ricostruzione dei fatti, che il 43enne abbia colpito e pestato un 54enne del posto, probabilmente con un oggetto contundente, ossia una spranga di ferro. Le urla hanno attirato residenti e passanti. Qualcuno ha subito chiamato i soccorsi. All'arrivo dei carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vita Antonio Sisto, l'aggressore è stato subito rintracciato ed arrestato. Da chiarire i motivi che hanno condotto i due alla lite, forse una vigenta precressa con la discussione degenerata. L'uomo colpito è stato trovato con il volto tumefatto e con la testa ferita. Sono varie le fratture sul corpo e dal capo che sono state riscontrate al 54enne. I soccorsi lo hanno immediatamente trasportato all'ospedale. Attualmente l'uomo è ricoverato a Ruggi di Salerno in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Gli inquirenti indagano per risalire ai motivi della lite, che si è trasformata dalle parole ad aggressione e collessioni gravi.